Qual è il programma del minicorso di lettura veloce? Te lo faccio vedere immediatamente perché è denso, denso, denso e ricco di contenuti. Ho creato una mappa, ti faccio vedere l'ultima che ho fatto vedere, è l'ultimo minicorso. Si fa un test iniziale di lettura proprio per misurare quante parole al minuto leggi e il livello di comprensione, perché essendo una concreta ho bisogno di farti vedere subito un miglioramento. Ti spiego un pochino dei ceni teorici sulla lettura, di cosa succede durante la lettura normale, cosa succede durante la lettura efficace, perché più di chiamare la lettura veloce mi piacerebbe chiamare la lettura efficace, perché in realtà la lettura che noi adesso abbiamo è eccessivamente lenta e risulta estremamente inefficace e poco attenta. Vi parlerò di come funziona l'occhio, qual è il movimento dell'occhio, vedrete veramente una differenza netta tra il prima e il dopo, faremo degli esercizi per rendere l'occhio molto molto più veloce, molto molto più fluido, lavoreremo ancora ancora su esercizi per ampliare il campo visivo, per ottimizzare le risorse oculari e poi un test finale per farti vedere immediatamente come in una sera tu già promesso, perché ci sono i dati che parlano, raddoppi la velocità, quindi test iniziale e test finale per vedere il miglioramento. Ti aspetto perché sembra quasi miracolistico, lo so, ma ci metto la faccia da 29 anni, grazie anche a tutti questi libri che mi sono studiata all'università e per me la lettura veloce è davvero vitale, perché poter leggere rapidamente, comprendendo di più, ripeto, più che dire rapidamente, efficacemente, rimanendo fissa su quello che faccio, non avendo quella sorta di ansia che mi porta ad arrivare in fondo alla pagina e dire oddio cosa ho letto, mi sono dimenticata tutto, per me è davvero importante e vitale. Ti aspetto, ciao, ciao, ciao.